Prego il capo, tu faccia con gli occhi e vai benissimo, che ti risparmia il gioco di questo gioco, che ti danno la fastidio, che c'è in giro quando ti spai i occhi di rischio. Eccoci tornati. Saluta la mamma a meno, no? Il nostro corpo è concentrato nel corpo. Ciao mamma. Quando sei pronta per il passaggio? Per migliormelo tu? Sì, tu con la tazza. Io faccio tutte le cose strane.